Una terribile tragedia si è verificata nell'Essex in Inghilterra. Un uomo di 70 anni, Simon Johnson, ha ucciso sua moglie Margaret affetta ad Alzheimer. I loro corpi sono stati rinvenuti nell'abitazione. Secondo il Daily Mail, il signor Johnson aveva già manifestato difficoltà nel prendersi cura della moglie, soprattutto durante il periodo di lockdown. Il detective Rob Kirby, responsabile delle indagini, ha sottolineato la necessità di una maggiore vigilanza in situazioni simili soprattutto da parte dei parenti per prevenire tragedie simili in futuro.